Comunità energetiche, collaborazione tra soggetti diversi per un nuovo modello sostenibile e indipendente. Di questo si è parlato durante il convegno tenutosi da Pindustria con Fabi Brescia. Ai nostri microfoni ascoltiamo Raffaele Cattaneo, Assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia. Credo che in questi mesi tutti, le famiglie ma soprattutto le imprese con l'impennata dei costi dell'energia si sono resi conto di quanto il tema della transizione energetica sia un tema attuale, importante ma soprattutto che riguarda tutti. E non possiamo pensare che questo avvenga solo dall'alto con le misure che può prendere il governo, la regione. Questo è un tema che ha bisogno del coinvolgimento di tutti noi. Le comunità energetiche sono lo strumento al momento più idoneo a disposizione del territorio, delle comunità locali ma anche delle iniziative delle singole imprese, vorrei dire dei singoli condomini, persino le parrocchie si stanno muovendo per dare vita alle comunità energetiche. Perché sono l'idea che se un gruppo di soggetti si mette insieme e condivide un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, può essere un impianto fotovoltaico, una piccola centrale in idroelettrica, una piccola centrale a biomassa. Dico piccola perché ci sono dei limiti sugli incentivi, le comunità energetiche devono avere impianti che non superano i 200 megawatt e complessivamente gli incentivi valgono per produzioni che non superano i 200 kilowatt e produzioni che non superano il megawatt, 200 megawatt sarebbe tantissimo. Quindi se si mettono insieme possono avere, se hanno un modello di autoconsumo cioè solo per quel gruppo chiuso, 100 euro al megawattora di contributo. Se è un modello aperto, una vera e propria comunità energetica, 110 euro al megawattora di contributo che in un momento in cui la produzione, il costo di produzione delle energie rinnovabili è molto sceso e siamo fra i 30, i 50, i 60 al massimo euro al megawattora permette di coprire anche buona parte del costo di investimento. Quindi certamente è una grande opportunità che va nella direzione di favorire il moltiplicarsi delle fonti rinnovabili ma in questo momento anche di abbassare i costi delle bollette che sono diventati per molti insostenibili. Dunque poiché finalmente la norma è quasi definita, stiamo aspettando un ultimo decreto del governo che dovrebbe arrivare prima dell'estate. È l'ora di cominciare a riflettere davvero su questo strumento e per chi vuole cominciare a cimentarsi, metterlo in campo nell'interesse di tutti per ridurre le emissioni inquinanti e clima alteranti ma anche nell'interesse del portafoglio di ciascuno.